Salve a tutti, io sono Jacopo Lazzaroni, sono un odontoiatro, ho 43 anni, provengo da Staffoli ma da 5 anni oramai vivo a Santa Croce, quindi sono un po' un ibrido. Io sono stato appoggiato dal Partito Socialista, sono laico e ho deciso di dare il mio supporto a Giulia perché credo che alla fine ci sono delle cose che sono imprescindibili, tipo la sanità, l'istruzione, il sociale. Giulia in questi anni ha portato avanti questi temi con fermezza e dedizione, quindi ho ritenuto giusto dare il mio appoggio a una persona che si è impegnata così. Grazie a tutti.